allora mi fratelli fece i moratori noi siamo quattro fratelli 32 33 e 34 capito? quell'altro 38 allora sono andato là loro ci avevano preso per conto suo e ci sono andato pure io però mio fratello più grande mi vedeva che soffriva e ha detto vai a casa vai a casa non è che non è che crollavo subito capito? a me venivano quegli svenimenti proprio e c'era un salto un amico mio faceva il salto ma lui era un anziano ma viene lavorato a me viene lavorato a me mi fa io sono andato andavo a scuola e quando tornavo a casa dove andavo in barra e puoi immaginare che non mi dava una lira e allora c'erano i parenti qui no? tieni in mezzo io dice è morto il salto quello che stava qui allora ci va bene a Montevidone sono venuto a Montevidone lavoravo da un posto mangiavo da un altro posto e dormire in un altro posto tu pensa che vita che dovevo fare e mi dò qui sono venuto nella stessa zona a Montevidone a Montevidone e non è come fatti eh? a Montevidone a Montevidone